Di nuovo libero il notaio Antonino Pecoraro, messo agli arresti domiciliari il 15 gennaio nell'operazione antimafia Nebrodi dalla DDA di Messina, già uscito grazie ad una prima ordinanza del tribunale dell'esame della città dello stretto e poi riarrestato. Adesso ancora il riesame ha revocato per la seconda volta la misura cautelare nei suoi confronti in accoglimento del ricorso degli avvocati Sergio Monaco e Alberto Gulino. Pecoraro, che è originario di Palermo ma ha lo studio a Canicattì, avrebbe commesso, secondo l'accusa, una serie di falsi, secondo la procura messinese, per avvallare finti passaggi di proprietà di terreni ubicati sulla catena montuosa dei Nebrodi nell'ennese e nel messinese e che sarebbero serviti ad ottenere contributi non dovuti all'Unione Europea, di cui poi si approfittavano i clan mafiosi dei batanesi e dei bontempo scavo a Tortorici, in provincia di Messina. Il primo annullamento era legato alla mancata motivazione delle esigenze cautelari, cioè la spiegazione delle ragioni per cui era indispensabile privare della libertà il notaio. La procura aveva reiterato la richiesta, stavolta indicando specificatamente i motivi, e il GIP aveva messo una seconda misura cautelare, adesso di nuovo annullata, sempre dal collegio preseduto da Massimiliano Micari. Secondo la direzione investigativa antimafia messinese, il notaio Canicattinese, già attenzionato dal suo stesso ordine professionale per alcuni movimenti sospetti per atti di uso capione, sarebbe stato un pezzo indispensabile della scacchiera volta a permettere ai componenti del clan non solo l'acquisizione di alcuni appezzamenti di terreno appartenenti a terze persone, senza che questi lo sapessero, ma anche a perpetrare una truffa nei confronti dell'Unione Europea, ricevendo i finanziamenti messi a disposizione dall'Agenzia per l'erogazione in agricoltura per i proprietari di fondi agricoli. L'indagine è stata condotta dai carabinieri del ROS, dal comando provinciale di Messina, dal comando tutela agroalimentare e dai finanziari del comando provinciale di Messina. Pecoraro è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa nell'operazione antimafia sulle cosche dei nebrodi.